Nesce fuori una partita divertente tra i Pabastina in maglia rossa alla nostra destra e i Pizzeri e 4-20 che vestono il loro classico blu scuro con le maniche rosse. La prima occasione dopo soli due minuti c'è il vantaggio Pabastina che scappano dalla sinistra palla al centro e Argiolas non ci pensa un secondo e porta in suo vantaggio siamo solo al secondo minuto e il vantaggio regge per altri sette perché poi al nono grande occasione Pabastina altro accentramento tiro sul primo palo Zucca sorprende il portiere avversario e raddoppia. Siamo solo al nono e il punteggio è già di 2-0 ma la partita si riapre al tredicesimo palla sul secondo palo e Pugetu con una grande soluzione balistica al volo riapre la partita. A questo punto sono più i portieri a mostrarsi attivi ed è quello dei Pabastina magia a farsi trovare pronto sul primo palo Don Cornet e poi sul tiro ravvicinato in due occasioni è bravissimo. Poi Pabastina sei minuti dopo passano ancora Siddi che prima dello scadere porta e riporta i suoi sul più 2 si va a riposo sul 3-1. Si riprende con i Pabastina che sono avanti di due gol e vogliono rimanerci. L'inizio della seconda frazione sarà abbastanza equilibrata infatti dopo tanta lotta a centro campo arrivano poche conclusioni tutte cariche di forza ma con pochissima precisione. Saranno ancora una volta i due portieri ad esaltarsi e chi se non quello dei Pabastina magia che autore di una grande prova para la conclusione sul primo palo ci mette il piede da un giocatore di fuzzola poi il tiro è grandioso il gol è bellissimo. Al trentasettesimo è Usala che riapre la partita 3-2 i pizzeria si rifanno sotto ma due minuti dopo Emilia che dalla fascia si accentra viene chiusa in primo caso l'azione poi la palla gli arriva e lui scarica in porta forte e preciso 4-2. Pabastina di nuovo a distanza di sicurezza poi il finale tutto loro tutto dei loro contropiede tutto di mura che salta il portiere e scarica in porta al minuto 43 siamo sul 5-2 può ancora succedere qualcosa ma i pizzeria si sbilanciano come appunto devono fare inesorabilmente lasciano spazi i Pabastina sfruttano ogni occasione utile ogni buco difensivo. Da un piazzato la palla viene messa dietro conclusione di mura che trova la doppietta al 46esimo 6-2 finale come nelle migliori partite di tennis sarà questo appunto il passivo sul quale le due squadre devono arrendersi se a due finale passano i Pabastina.